Raccolgo con piacere l'invito del direttore di Anguero News Stefano Idili per rispondere a qualche domanda sulla situazione economica del nostro agro. Mi chiede Tiziana Lai, il residente rappresentante dell'agro, com'è la situazione delle attività in quella parte dell'agro? Noi ci riteniamo fortunati perché, come diciamo sempre, perché le nostre borgate sono fornite dei servizi essenziali. Le poste di Santa Maria La Palma che sono state riaperte, i supermercati, la banca, le nostre attività agricole, la farmacia. Noi non abbiamo la necessità di andare ad Alghero per i beni di prima necessità, se non per le cose che non troviamo qui, ma fortunatamente abbiamo a disposizione quasi tutto. Diciamo che bisogna puntare l'attenzione sul grande lavoro che stanno facendo i nostri produttori locali in questo periodo, in questo momento. Mi chiede, attendete delle risposte dalla regione come lo blocco di PSR? Noi abbiamo sempre chiesto alla regione maggiore attenzione. Oggi più che mai la regione Sardegna deve incentivare le aziende agricole, deve incentivare le filiere, però non con le parole ma con fatti. Lo sblocco di PSR significa mettere al lavoro più persone per far sì che le 52.000 domande presentate siano erogate. Bisogna incentivare, oltre che sbloccare i fondi già richiesti e a disposizione, bisogna incentivare con nuovi finanziamenti perché le aziende hanno bisogno di liquidità in questo momento. Tenete conto che il nostro agro in questo momento ha tutte le attività turistiche e agrituristiche ferme, chiuse e quindi chi sta soffrendo maggiormente in questo momento è tutto il settore del turismo. Ricordate che noi siamo alle porte del parco di Porto Conte, siamo sulle spiagge. La nostra bonifica è agricoltura ma non è solo agricoltura, è agricoltura fortemente legata al discorso turistico. Come noi abbiamo sempre detto, le due cose devono viaggiare di pari passo. Quindi la regione deve assolutamente prendere in mano questa situazione e spingere perché ci sia uno sblocco immediato, non tra settimane e mesi. Adesso è in questo momento che le aziende hanno bisogno di sentire gli amministratori vicini. Mentre mi chiede a livello locale cosa potrebbe e dovrebbe fare l'amministrazione per sostenere l'agro e le sue produzioni. È paradossale vedere e constatare quello che abbiamo visto questi giorni. L'amministrazione ha messo in piedi attraverso l'assessorato dello sviluppo economico un elenco di aziende che i cittadini possano chiamare per farsi portare a casa le produzioni locali. Questo ha incentivato i produttori con con le produzioni, anzi mi dicono che qualcuno fa fatica a smistare le ordinazioni. E questo è paradossale da sentire perché questo è un progetto che l'amministrazione comunale aveva già dal 2015. Il famoso pacchetto progetto contenitore, chiamiamolo un po' come vogliamo, di mondo rurale messo in piedi dall'amministrazione precedente, nato sul tavolo di lavoro di mondo rurale, prevedeva già la messa in rete dei produttori locali con le attività di Alghero e con i cittadini. Si chiamava Alghero città del buon cibo. Lì all'interno di quel progetto erano presenti il famoso paniere, il famoso elenco delle produzioni e il famoso modo di avvicinare i cittadini alle produzioni locali. Ci fa piacere che sia stato fatto oggi, che i cittadini stiano scoprendo finalmente i nostri produttori locali al di là di come li avevano già scoperti con i mercati cittadini, però ci fa specie pensare che questa cosa sia messa in piedi sia stata messa in piedi in un momento di emergenza, in fretta e furia. Ecco, noi non vogliamo che queste cose vengano messe in piedi, in fretta e di fretta e furia. Noi vogliamo che queste cose vengano messe in piedi con un lavoro strategico. Cosa deve fare oggi l'amministrazione per il nostro agro? Deve fare esattamente quello che noi abbiamo progettato già da anni. Deve mettere in piedi una rette di produttori, di consumatori, di associazioni, di ristoranti, alberghi, insomma tutti quelli che sono i consumatori finali devono poter essere messi in rette con i produttori locali. Così si incentiva l'agricoltura. Oggi il problema è che questo ancora non è stato fatto, ma è stato fatto solo in parte con alcuni progetti messe in piedi, ma che hanno avuto purtroppo poca strada, ma che deve essere assolutamente incentivato. E qui l'ultima domanda. Quali sono le urgenze dell'agro in termini di servizi e azioni connesse all'assessorato competente? Quello che noi abbiamo chiesto all'assessorato allo sviluppo economico già dal suo insediamento l'anno scorso e che, ahimè, ai noi non è stato fatto, che è quello di un tavolo serio, un tavolo di discussione e di lavoro per far sì che ci sia veramente quello che è lo sviluppo locale, cioè lo sviluppo del turismo, lo sviluppo del territorio attraverso i prodotti locali, attraverso la nostra cultura, attraverso le nostre manifestazioni. Noi riusciamo a destagionalizzare, noi potremmo destagionalizzare, noi potremmo incentivare le produzioni locali, però bisogna lavorare, bisogna mettersi a fare assolutamente un lavoro di fino, che purtroppo fino ad oggi non è stato fatto. Noi questa cosa l'abbiamo segnalata più volte all'assessore competente allo sviluppo economico e purtroppo non è stata recepita. Oggi senza nessuna polemica, senza voler fare nessun tipo di atto d'accusa, però se io devo rispondere a questa domanda quali sono le urgenze dell'agro, è ora che io devo rispondere che è ora che ci rimbocchiamo le maniche, tutti quanti senza colori, senza distinzioni, tutti, tutte le attività produttive di Alghero, tutte le attività produttive dell'agro, tutte le associazioni di categoria, tutte le associazioni culturali, tutti devono essere messi in rette e devono assolutamente in questo momento lavorare per trovare la via di uscita a questo disastroso momento economico, perché ricordiamoci che dobbiamo trovare le economie all'interno della nostra stessa rette. Questo noi possiamo fare e a questo noi ci rendiamo disponibili. Buonasera a tutti e grazie dell'attenzione.